bello a tutti ragazzi sciocari benvenuti e bentornati ragazzi oggi facciamo vedere all'ello e tik tok come funziona tik tok e facciamo una reaction insieme all'ello come funziona tik tok però mi raccomando ragazzi iscrivetevi al canale a tolata campanella mettete like commentate e fa tutte le cose che deve fare sempre dai 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 che vediamo se l'ello conosce il tik tok e cosa ne pensa di questi video conosci tutti tiktok conosce il tito che lo conosce di toccarlo quindi non hai mai visto tiktok ma ma i messaggi con spattito come nabè perché vuole vedere come dico i bei scoscia aspetta 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 ragazzo lasciate faccio vedere io mostre se escono i ragazzi scosciati non devono appena i ragazzi scosciati questo ti piace no no andiamo avanti questa questa inglese legante mette 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 questa sono levo il miglio diamo avanti questi pubblicità questo cartone ma non zero no questo no questa cosa vabbè andiamo avanti questo no però che ci perrucchi questa ma non può mettere like ma di là il primo like di l'el primo letto di le abate si è trasformato ti piace così la bolla bionda poi c'è andiamo avanti buongiorno non esiste maradona questo ti piace like no no non serve il like questo che fa questa volta soppressa san valentino mette like no 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 non vale la pena questa non è ma non vale la coperta c'è un like tra il messo la conozzi salute questa la poi metto like a valata per manca questo volato da questa o queste lecce c'è gli occhi spiritati sono meritate il like se l'hai meritato che dici se l'hai meritato il like andiamo avanti questa si sta truccando diventa faccia bianca aspetta aspetta vediamo come che diventa alla fine che si sta trucca aspetta vediamo come diventa c'è sta like io posso metto ma non va l'ho detto no questa cucinella like non va l'appare un vala per mangate like queste sempre lei questo metto like non va l'appare non va il mangallo e l'ape o oggi che c'è questa è la minigone ci sta ci sta il like il like ci sta allora gli ultimi cinque video va bene può avast o avast allora queste cartone di mananzè questo è il bambino non serve o questa non serve no 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 l'arco mente ci costitano questo la cinese like non vale la pena la cina gli ultimi due video no 3 questa non vale la pena questo like questi no non ti piace a lei like questa è la cosa ci sta dai la ne manca perché questa la e callello o finalmente che chiede prima sia posto a posto quindi ma tu sei iscritto su tiktok ci stai su tiktok tu sei più su tiktok a quindi li vedi allora e che non voglio mettere io sei tu che non vuoi mettere bra l'è l'ho istadro tu da tutte le parti stai ti basta tiktok angela va quindi tu la ti metti e ti metti a vedere e ti metti a vedere le cose che tu e ti metti a vedere babulello è stato un piacere anche per me è stato un piacere ciao 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 ciao